L'associazione Telefono Donna presenta Letti per voi. Buona lettura! Benvenuti nello spazio Letti per voi, gestito da Telefono Donna, l'associazione che si occupa di donne maltrattate, vittime di violenza, bisognose di aiuto e che qui a Cuneo si trova in via Carlo Emanuele al numero 34, telefono 0171 63 15 15. Il libro che vorrei recensire per voi oggi si intitola Piccoli pettegolezzi di paese. L'autrice è Carolyn Brown, è un romanzo leggero, divertente, simpatico, come la sua protagonista Jenny Smith, Jenny Sue Bacher, figlia di una delle famiglie più ricche di Bloom in Texas, che rientra nella sua cittadina in Pullman con una valigia sciupata e appare grassoccia e trasandata. Come è possibile? Jenny Sue, reginetta di bellezza, in grado di viaggiare senza problemi in aereo, che si muove in Pullman? I pettegolezzi corrono velocissimi. Si dice che Jenny avrebbe posto fine al suo matrimonio e abbandonato New York per tornare a casa. Cosa succederà ora? E i pettegolezzi si intrecciano, corrono, per poi sciogliersi e proseguire separatamente sulle proprie strade. L'unica che l'ignora è Jenny Sue. Lei ha capito che la nuova vita è l'opportunità per poter essere finalmente se stessa, in grado di ridere e divertirsi, nonostante i tiri mancini del destino, nonostante le infinite chiacchiere di una cittadina di provincia, dove tutti parlano di tutto. Vi ricordo le coordinate di questo simpatico libro, Piccoli Pettegolezzi di Paese, di Caroline Brown. Vi ricordo anche che il libro è stato presentato da Telefono Donna, l'associazione che si occupa di donne maltrattate, vittime di violenza bisognose di aiuto, e che qui a Cuneo si trova in via Carlo Emanuele al numero 34, telefono 017163 1515. Le volontarie sono in sede il lunedì e il venerdì mattina, martedì e giovedì pomeriggio. A presto con Letti per voi. Avete ascoltato Letti per voi, a cura di Telefono Donna.